ciao a tutti ragazzi ragazzi benvenuti su questo video io sono tutti i miei suoi unicottica e oggi vi voglio vedere come farò perché c'ho la via a di che ok sta già un livello diciamo ok ho messo tutto così che cosa ragazzi buongiorno perchè è martine infatti buongiorno fede gli farò uno scherzo che praticamente cambierò città cioè andrò a roma praticamente cambierò casa, cambierò scuola e andrò a roma direttamente perfetto devo dire cosa è importantissima importantissima ok ok a roma dire non so buongiorno 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 perché appunto ragazzo ma poi si viene a trovare se voglite sì certo poi vi diamo io parto dopo ho inventato cucciola ragazzi io lo chiamo così perché mai sto scrivendo mille anni dopo vede quando scrivi vai passare il tempo perché cazzo vedo mille anni dopo se troviamo solo oh cioè lo troviamo solo anche guarda guarda stai qua ora chissà quattro perché vede adesso dicevo che ho scritto un'altra cosa ancora cosa ancora un'altra cosa ancora un'altra cosa ancora un'altra cosa ancora uno io dicevo perché la casa sta piangendo come dire guarda saluta e a un'altra cosa ok ok i ragazzi paviti oggi staschi da vero sa qui va a fare se resta un peccato e come come saluta Buon appetito. ok ragazzi ok ok ciao ok ragazzi questo è un petto vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale mettete la canzone e vi è piaciuto ciao